Sì, ovviamente l'entusiasmo di domenica scorsa è già stato messo da parte, è molto molto un grande successo finalmente alle bottiglie davanti a tanta gente ma adesso è già tempo di pensare alla mia cosa. Era una partita tosta, d'altronde come tutti in questo campionato però la balletta sicuramente si ragionerà su tutti i campi allo stasso l'uno. È stata un'emozione unica, vuol dire tutto lo stadio, quasi tutto, pieno e siamo contenti di avere acceso l'entusiasmo. Sicuramente il ritmo è un po' più alto però piano piano stiamo lavorando e siamo a buon punto. I tifosi sono veramente eccezionali, ci hanno seguito il sindaco l'anno scorso su tutti i campi e sono sicuro però continuano a fare il loro supporto fondamentale.